Prosegue la querelle sui distacchi del servizio idrico effettuati da nuove acque. L'ultima puntata, dopo la lettera pubblicata dal direttore dell'autorità idrica toscana, Alessandro Mazzei, in cui sosteneva che nuove acque e AIT agiscono secondo la legge, che quindi le azioni del Comitato Acqua Pubblica, attese a far rispettare l'esito referendario del 2011, sono lesive del corretto rapporto utente-fornitore di un servizio pubblico, arriva la risposta del Comitato Acqua Pubblica. Se nuove acque e AIT, dicono dal Comitato, rispettano la legge o meno, non lo stabilisce Mazzei, che sarebbe il direttore dell'AIT, e nemmeno nuove acque. Lo stabiliscono i giudici. Sarà banale ricordarlo, ma ciò succede da alcuni secoli nei paesi del mondo civilizzato. Se l'AIT e nuove acque, insiste il Comitato, ritengono che la contestazione di una quota di tariffe effettuata da centinaia e forse migliaia di utenti non sia legittima, possono ricorrere come tutti al giudice per ottenere quella che secondo loro è giustizia. Invece di abusare illegittimamente del loro potere di monopolista, chiudendo i contatori e lasciando senza acqua famiglie intere, in violazione della legge 221 del 2015, che impone ai gestori di garantire un minimo quantitativo vitale di acqua necessario al fabbisogno per sopravvivere, persino ai morosi. Figuriamoci agli obbedienti civili che morosi non sono. Questo comportamento dell'AIT, rilevano dal Comitato e quello di nuove acque, potrebbe prefigurare un reato anche alla luce del fatto che ci sono già tre sentenze di tre diversi giudici di pace di Arezzo che su questo tema non solo hanno dato ragione agli utenti che hanno ricorso, ma che hanno perfino condannato nuove acque alle spese. Riteniamo quindi che, più che a noi, l'autorità idrica toscana debba chiedere a nuove acque di rispettare la legge vigente e, in primis, riallacciare tutti i servizi distaccati, anche perché ogni volta che ci siamo trovati davanti un giudice abbiamo sempre vinto noi.